bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo con me stesso basta ok con questa intro di merda dobbiamo cambiare i toni ok direi subito di iniziare ci troviamo nel livello si non ce ne frega niente ok ma credo 8 perché ok nello scorso episodio ho fatto vedere come vabbè come si apriva sta porta qui quindi direi subito di iniziare e vai col video ok l'ho provata solo una volta sta sto parkour ma molto blando di morta chi qua ok stavo per premere meno principale ma non va niente non va niente la laggatina basta perfetto potrebbe andare per ora tutto tranquillo beh o almeno si spera no 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 perché di un centimetro per il tutto ma io ho un attimo a 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 non lo so ma dov'è ecco no dov'è mi sto perdendo aspetta sei chiuso ma perchè vado lento pure no qua gli oggetti serviranno allora perché oggi sbrighiamo o niente perché gli oggetti si dopo un arco di tempo si 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 ecco ma cosa sta succedendo dopo un po di tempo gli oggetti ecco spariscono madonna neanche il primo blocco mettiamo bene 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 probabilmente ci sarà una canzone di sottofondo perché so come togliere il copyright come come fare ecco so come fare per accompagnare il video ok ok però ce la stiamo pagendo col piccone più fighetto ok no va bene va bene no mamma mia ero in shift allora ero sicuro no mamma mia per per un soffio di mammut anche se mammut soffia no o almeno soffiavano oh what the hell ce la stiamo facendo no ok sembrava una tirata di lag via alo po mi donna sono scuola se si può fare per tutti non sono state legale o no 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 sembrava sembrava tutto perfetto allora o ho lasciato il testo doppia Ah Ho scelto il tasto W Convinto Cavolo Guarda Oh Sto salto potenziato mi frega eh però Excellent Excellent Ma perché? Tu me lo vuoi spiegare? Tu me lo spieghi Ma E' impossibile E' impossibile La prossima Dai Dai Va bene Va bene Ma perché? Ma Senti Senti Ma